Un'altra cosa, 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 un'altra perché se questi due politici in alto trascorre da Ciccio Polizzi, padre del figlio del figlio, all'altro lato, l'altro lato è un po' di politico. Dico a lei, adesso gli ho preso il pubblico, se ti ha preso il pubblico, capisco il pubblico, quando avessi un po' di politico, se uno si era la mente, non potrei. E quindi piano piano, non cominciai a capire l'intervento e le cose, e mi dicevo, non mi preoccupate, il Consiglio Comunale è una partita di cacchi, quindi ogni uno farà la famosa in base, a quello che faranno gli altri, a quello che tirano gli altri, ed era molto bella, mi piaciva la cosa, perché i cacchi sviluppano la mente, il pensiero, e sono molto delicati, faccio non so trovare la caccia. Allora, stamattina invece mi sembra che sia un teatro, sia il vecchio teatro delle vecchie ebrei, dei grechi romani, in cui gli attori si presentavano le mazze, in cui sotto la mazze, la mazze, io travascio, ormai un anno che si diceva delle stesse cose, eccetera, eccetera, io travascio delle cose personali, ma alcune cose è ben negabile. Dopo un anno sono diventato fuggiato, prepotente, abbotante, bene, se questo vuol dire aver, non avessi tutto ai cacchi, allora io sono anche mezzo di quello che è detto. Perché la rivoluzione, le cose come, le stanno tutti quanti insieme. In battaglia elettorale, ci si presenta la caccia della gente, qualcuno dice che andrà a casa della gente dietro, oppure ha stagliato a guardarmi, la caccia della 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 se sono un anno prato o sono un anno prato, beh, non mi fate scegliere, finalmente non come qualcuno che ha un bar, che ha un tassello, se sei un di mezzo, non deve arrivare niente, quindi qualcosa forse probabilmente con un anno sto rimanendo, qualcosa forse abbiamo fatto. Io stamattina potremmo dare un gioco di rimancio, un avventura, e poi ho insistito, e ho detto, ah, siamo chiesti nel rimancio, se facessi pure nulla per andare avanti, per finire queste trattative che ci sono, queste trattative, non parte in questa città, ma parte in un'altra tale, in un'altra riunione, dove ognuno decide per la sua parte. Allora io sono rimanendo a persone che volevano il 40% di necessità, A termini, a persone che non le dividono, a persone che non le dividono, e alla mia, perzi in un'altra riunione, dove ognuno è. E a te che vado la sua parte, perché la sua parte, perzi in un'altra riunione, per**** shellucha, peschallucha, 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 peschallucha. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.